Tommaso. Come? Tommaso. Tommaso. E quanti anni hai? Sette. Sette. Fai la seconda? Sì. E come è andato il primo giorno di scuola? Sì. Sei. E' il primo giorno di scuola? Palestra, nuova classe, devo un'altra cambiare perché un mio amico se ne va via. Prima gli avevamo fatto un lavoro, poi gli avevamo fatto un altro lavoro e poi un altro lavoro. Ma ti hanno già dato i compiti? No. E ti hanno già dato i compiti da fare? Sì, i diari. Tanti? Non ti ricordi? Ma ti hanno già dato i compiti? Sì? Sì. Adesso vai a casa a farli? No.